Il Napoli già pensa alla prossima stagione, ha ufficializzato le date del ritiro a Di Maro Folgarida, prima tappa di preparazione del nuovo campionato. Gli azzurri si alleneranno in Val di Sole dall'11 al 21 luglio, con le sedute di preparazione in programma come di consueto allo stadio di Carciato. Il Napoli rinnova così il suo appuntamento con il Trentino per la tredicesima volta, a conferma di un legale davvero indissolubile. L'annuncio ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. Il ritiro in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole, sottolinea il patron del Napoli, rappresenta ormai una tappa fondamentale e imprescindibile dell'inizio della stagione azzurra. Siamo felici che questo connubio si rinnovi a conferma del forte legame ormai consolidato nel tempo che esiste tra il club azzurro e Di Maro Folgarida. Soddisfatto ha anche Maurizio Rossini, CEO del Trentino Marketing. Si rinnova una collaborazione favorita dalla qualità delle infrastrutture e dei servizi dell'ambiente e dell'accoglienza che Di Maro Folgarida mette a disposizione della società azzurra e dei suoi tifosi. Il Napoli poi completerà la preparazione estiva a Castel di Sangro. Le date non sono state ancora ufficializzate, ma è probabile che gli azzurri siano di scena allo stadio Patini dal 25 luglio al 9 agosto.